E ora vedremo il lato killer, vediamo un po' se riusciamo a scegliere Prende la moto 7, ti permette di dire i movimenti più vicini e vicina Oh, ah, subito così? Subito così me lo dici? Me lo dici così? Ah sì? Ah no, posso cambiare, ok? Ahà! Io direi di prendere lui perché sono molto curioso perché Here's Johnny, pompa di benzina notte Ahà! È lì che ti volevo Vedo dello spirito combattivo Eh sì Bello! Dai! Bella sta mappa, dai! Passo io? Porco! Mortacci mia! Eccolo, la vita è rumorosa e ha svegliato il nonno Nonno, nonno, nonno! Nonno, la realtà era morto Una barzelletta, eh? Qua grande! Che maestro! Non ho già massacrato un tipo Massacrata Bubba Eh, ho capito, mi ha dimassacrato tutti voi A me non mi lasciate neanche un po' di divertimento Cazzarola Cazzarola Qua serve qua, no? Levati dal Sali, scendi se mai, no? Non sali Eia! Eccolo il merda! Here's Johnny! C'è anche qua che non può passare, Cristo! Come non è in pericolo! Ma che cazzo succede? Sato di No! Sato di non è facile è proprio per niente ma è grande grande guardate di essere quasi tutto al chiuso almeno eh non è come Dead by Day non è carmine eccolo là il merda certo devo fare il giro dei misci io oh oh bello sono una rimarda ma vieni spettacolo caccia l'ultima vittima fantastico fantastico ah ha fuggito bello dai se vabbè anche me no eh ho sempre detto che è il primo a morire no tutti i film horror è così più o meno eh dipende eh di cazzare aspettate acqua è chiuso ok voglio sangue perfetto cerca ah no ok cerca pensavo cercasse ah no c'è qualcosa da fare con i cavi se non erro da collegare praticamente la batteria dell'auto ah ma aspetta angelo si chiamava eccola qui accendi e premuto eccolo eccolo vedi vedi praticamente adesso facendo così abbiamo alimentato la trappola che c'è lì fuori premuto diamo i calci e chiediamo le varie grate condotto bloccato perfetto intanto noi non ci possiamo andare però possiamo fare il giro di qua per poter entrare a questo raccogli il sangue vai non è che la massarana ancora sotto perché di solito c'è scritto è scappato dal che cosa dobbiamo andare a cercare il nonno ah ah c'è il cuoco che ha che ha trovato ah eccola dove cacchia è andata merda non si vede un cazzo vai vai bevi bevi tanto c'è l'enes cazzo con il monitor nuovo per impostarlo è un casino qua ovviamente lui non passa perché più largo che lungo così pare buba salve hello buba fai gli scherzi buba ah ah torniamo su direi eh direi eh direi se trovo dove si sale magari così eh capito che cazzo è stabilità molto bene ah vedi tutte le ah ecco tutte le uscite le cose eccola soccola vieni qua merda non posso passare vedi dai apri sta merda non è che figurati eh figurati eh che cazzo due aspetta 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 che arrivo sì però ragazzi se non nutrisco io il nonno col cazzo eh nutrisco nutro eccola eccola è lei sì sì aspetta col cazzo merda è andata giù e io ovviamente non posso andare giù ovviamente dovrebbe essere io il nonno cioè è fondamentale per trovare le vittime vediamo un po' se riusciamo di tenere cup andiamo dal nonno perfetto eh vai vai dacci una mano a posto minchia non è ancora cioè dai dai cazzarola scusa eh no minchia vabbè ragazzi avete visto un po' come la la situazione no ma che prezzo ma che prezzo signori eh il prossimo video ci sarà sì sì mi raccomando se vi è piaciuto il video mette like iscrivetevi al canale e ci si becca ad un prossimo video ciao here's johnny di mi mi Grazie a tutti.